Anticipazioni, Love is in the Earth, che riprendono le puntate dal 17 al 24 novembre. Serkan torna in ospedale dopo aver ricevuto un'allarmante chiamata dal medico. Durante la visita il dottore hanno diagnosticato una brutta malattia, il tumore al cervello. Inutile dire che Bolat verrà sconvolto da questa notizia. Infatti l'uomo d'affari si è rifiutato di ascoltare il medico. Impossibile, ieri era andato tutto bene, ha ripetuto più e più volte con tono disperato. Non hai altra scelta che accettare di essere malato e di dover iniziare un trattamento o un intervento chirurgico. La prima cosa che dobbiamo fare è condurre più test, ha spiegato lo specialista. Questa terribile notizia ha fatto cambiare completamente l'atteggiamento a Bolat. Il suo unico scopo in futuro è godersi la vita con Eda, perché non sa per quanto tempo potrà ancora vivere. Così Serkan il giorno dopo decide di comprare una moto. Ha guardato Eda e l'ha invitata a trascorrere una intera giornata a giro per la città. Oggi faremo quello che vogliamo fare, dice. Più tardi, ha chiamato l'ufficio e ha riferito che Erdem sarebbe stato responsabile di guidare il loro progetto con il signor Kemal. Questa decisione ha messo a dura prova il dipendente, ed erano anche responsabili di funzioni che ritenevano non qualificate per prendere l'iniziativa. Engin non conosceva la tempesta di lavoro che si era appena verificata in azienda e portò Piril dal suo, ginecologo per un esame. La coppia ha sentito per la prima volta il battito del cuore del loro futuro figlio. Te lo prometto, sarò con te in qualsiasi momento. Anche il giorno che iscriveremo i nostri figli a scuola, disse, tenendole la per mano affettuosamente. Poche ore dopo, Serkan e Eda continuarono la loro passeggiata. E hanno iniziato a indagare sulla scomparsa di un famoso dirigente che non è tornato dopo un giro in barca. Ho sempre voluto essere un detective, questo è un caso perfetto per noi, sai che siamo una squadra eccellente. Ha detto a Eda, la ragazza non sapeva cosa fosse successo al suo compagno o perché fosse così strano, ma decise di assecondarlo. Poi hanno finto di nascondere la loro identità e hanno avviato le indagini. Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video della vostra serie preferita, iscriviti al canale.